Ciao a tutti da Quagia Verosa ragazzi, sì, sì, scusate ma sto andando a lavoro e devo andarci per forza così, finita la partita devo scappare a lavoro e boh cosa dire ragazzi, like, condivisione, commentate, condividete, che partita pazza, pazza di nuovo, again, again, di nuovo, incredibile io, allora, allora ci sono cose negative da dire, va bene, ma ve le dirò domani nelle pagelle, c'è da rivedere la difesa, sì, c'è da rivedere però penso anche che a questo punto sia una questione di partita o di strutture tattica delle due squadre perché, cioè, quali sono stati fatti? In totale 15 mi sembra, cioè noi abbiamo fatto 9 golle e loro hanno fatto 6 golle in due partite, cioè una roba incredibile io ragazzi, cioè, non so cosa commentare, c'è tanto di quello da parlare che non basta il viaggio che devo fare per arrivare a distanzione lavorativa che dire ragazzi, delle note positive ci sono state, subito, prima cosa, vittoria, mi calmo un attimo, anche con un po' di influenza vittoria fondamentale, ah non mi vedo, vittoria fondamentale e ci voleva per comunque darci una svegliata in generale e niente, abbiamo ripreso i soliti gol come l'andata da Cross, un po' così, Brighenti ha sofferto tanto Novakovic quel pennellone da 1,90, si è visto, mi è piaciuto poco sinceramente Kranic, però ci sono delle cose positive come i calci d'angolo che era tanto che non segnavamo da calcio d'angolo è venuto fuori uno dei due assist di Van de Putt, secondo me migliore in campo ragazzi va bene Iemmello, bravissimo, ma secondo me Van de Putt ha fatto il meglio di me oh, sono cascato e secondo me ha fatto il meglio di sé, scusate, ma sono un po' precario ovviamente sembra un po' donato inglese quando mi casco la telecamera e niente, dicevo che non avevo mai fatto gol a calcio d'angolo quantomeno era veramente una decina o quindici partite come facevamo da calcio d'angolo e niente, ne ho visti un paio su schema quindi, come se mi avessero ascoltato in questi video il primo era su un passaggio su Iemmello, mi sembra lì indietro che ha stoppato, però non è riuscito ad andare a sé uno dei 4-5 tiri che Iemmello aveva fatto e il secondo poi, Gran Pennellate di Van de Putt, esatto che poi su Verna era lì appostato bello solo che col piattone la piazza per l'1-0 da lì, sembra che sia arrivato lo schiaffetto morale all'Eco e ha cominciato a giocare perché prima, secondo me, è stato l'aspetto del gioco e noi meritavamo anche perché loro hanno fatto un tiro che era andato veramente lontano e poi hanno fatto quei due tiri, due gol e noi, ovviamente, svantaggio per uno il mister poi ha preso le misure ha preso le misure per il secondo tempo e poi il secondo tempo siamo entrati veramente cazzuti cattivi con la consapevolezza che secondo me ne avevamo molto di più rispetto a loro e così è stato scusate ma un po' l'influenza, un po' l'ifuria questo è il quarto e niente, consapevolezza che secondo me si poteva vincere perché forse su questo aspetto del gioco rispetto a loro sono nettamente più forti ripeto, dove abbiamo sofferto è stata la difesa oh, scusate ancora la difesa però lì, insomma non so se vogliono arrivare sul mercato altra nota positiva e questo l'avevo visto anche nell'ultima partita il mister aveva deciso di far debuttare Castel per la volta scorsa e provare Scogna-Millo a sinistra come l'hanno passato ora ha fatto uscire Caceris è entrato Scitum e poi ha spostato Scogna-Millo a sinistra ha levato Cranice che appunto secondo me ha fatto non una bella prestazione anzi ha fatto veramente male secondo me forse ha giocato bene sul fallo della munizione che si è preso perché almeno ha evitato un contropiede forse è l'unica giocata buona che ha fatto per il resto si è visto Scogna-Millo che Scogna-Millo ragazzi spinge Scogna-Millo sulla sinistra spinge come faceva l'anno scorso in Serie C ha fatto due o tre sgruppate cosa che né Veroli né Cranice fanno quindi mi è piaciuto in più ha fatto tale crass perché qualche pallone di testa l'ha preso con Scogna-Millo sulla fascia sinistra sono molto più tranquillo quindi niente per me è ottima prestazione da parte di Scogna-Millo Brighetti ripeto ha sofferto tanto Novakovic Kaceris l'ho visto un po' un po' indietro un po' indietro non so se è un discorso di voci di mercato ma non era in sé anche che secondo me qualche cross a cui abbiamo subito gol ne è venuto dalla sua parte e abbiamo preso gol secondo me però va bene va bene così Iemmello si ha mangiato qualche gol però magari nelle altre partite in cui lui non c'era noi non ci mangiavamo nemmeno questi gol perché neanche tiravamo quindi è entrato gol assist ci ha provato l'ho visto già in forma cioè comunque è difficile entrare in forma dopo un mese di stop ok ha avuto tempo però era già in forma assolutamente Biacci Tomasino ha corso tutta la santissima partita bravissimo veramente bravo 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 che altro dire ragazzi niente io vi lascio qui forza aquile un pazzo un maledetto 5-3 incredibile speriamo che porti buon auspicio ci servono altri punti per salvarci e così potremo giocare ancora meglio consapevoli liberi di testa liberi di mente e solo questo ci serve a noi solo questo salvarci il prima possibile e con queste prestazioni quantomeno in attacco possiamo stare tranquilli like condivisione commentate condividete campanella iscrizione ragazzi arriviamo per i 350 iscritti e non mi ricordo più ciao ragazzi